ciao a tutti ragazzi io sono cocorì e oggi andiamo avanti con un nuovo episodio della not so berry challenge oggi finalmente cominciamo la generazione rosso come potete intuire anche dal colore della copertina quindi oggi cominciamo ufficialmente le avventure quindi della nostra piccola rossella della seconda generazione quindi prima di iniziare la partita andiamo finalmente a vedere quali sono le regole per questa seconda generazione la generazione di colore rosso quindi da bambina avevi tutto ciò che desideravi ma eri sempre alla ricerca di qualcosa di più da adulta non riesce a impegnarti stabilmente in nessuna relazione romantica dato che sei estremamente concentrata sulla carriera se in the sims 4 esistesse il tratto dipendente dal lavoro tu lo avresti sicuramente non hai per niente istinto materno ma ami tuo figlio con tutto il cuore quindi questa è la storia introduttiva della del sim appartenente alla generazione rosso quindi i tratti della nostra rossella saranno testa calda che già ha snob e romantico l'aspirazione che dovrà intraprendere sarà amore romantico seriale quindi sarà molto interessante poi andremo a vedere questa aspirazione molto complicata e come carriera dovrà intraprendere la carriera di politico quindi vediamo ora nel dettaglio gli obiettivi che dovrà raggiungere nel corso della sua vita quindi con rossella dobbiamo raggiungere il livello 10 della carriera di politico dobbiamo completare l'aspirazione di romantica seriale dobbiamo raggiungere il livello 10 dell'abilità di carisma dobbiamo avere un solo figlio dobbiamo lasciare qualcuno all'altare e dovrà sposarsi per la prima volta soltanto quando sarà diventata anziana quindi come potete già intuire insomma la nostra rossella avrà una vita piuttosto interessante e come già avevo detto sarà un bel peperino quindi queste erano le regole ufficiali della not so bear challenge per quanto riguarda questa seconda generazione quindi ci sarà tutta una nuova storia da scrivere con la nostra rossella quindi direi di andare subito in partita e cominciare a giocare ed eccoci tornati a casa verdi ci siamo lasciati nello scorso episodio con il gran finale col matrimonio di esmeralda ed edoardo ed allora sono passati un paio di giorni come vedete è martedì ed è un giorno molto particolare oggi perché la nostra cara rossella rossi passerà oggi di età diventerà adolescente e comincerà quindi questa sua avventura nella challenge quindi oggi è suo compleanno e come vedete ho già programmato una festa di compleanno che inizierà tra pochi minuti inizierà alle 20 a casa nostra e ho invitato a festeggiare il compleanno Tommaso e la sua mamma perché anche Tommi insieme a rossella passerà di età diventerà adolescente quindi faranno una festa di compleanno insieme quindi cioè esmeralda qui stava finendo di pulire un bancone e mancano veramente pochi minuti all'inizio della festa ho fatto un evento con obiettivi così è un po che non lo vediamo facciamo una festa di compleanno con obiettivi la torta è già pronta l'ha preparata il nostro edo e quindi non ci resta che aspettare che arrivino gli ospiti ed ecco qui festa di compleanno sta per iniziare vuoi procedere iniziamo ovviamente ok mentre aspettiamo che arrivino gli ospiti vediamo gli obiettivi principali gli obiettivi da fare insomma allora l'obiettivo principale ovviamente soffiare sulle candeline poi dobbiamo raccontare barzellette per due volte fare sim che fare che i sim ascoltino lo storero nello stesso momento e mangiare il cibo ok allora io direi che intanto possiamo anche accendere quindi lo stereo e ascoltarci un po di musica mettiamo un po di pop preadolescente e possiamo quindi ascoltare la musica oh e nel frattempo i nostri ospiti stanno arrivando perché non la potete ascoltare perché non arrivate allo stereo allora aspettate che lo spostiamo lo mettiamo in un punto più accessibile ok l'ho spostato qui sul bancone e dicevo che nel frattempo guardate sono arrivati anche i nostri ospiti qui c'è giorgia che è elegantissima tra l'altro sta molto bene davvero una bella signora la nostra giorgia e dovrebbe esserci quindi anche tommasino nei dintorni in teoria quindi facciamo una cosa formiamo un bel gruppo tutti insieme così almeno ci raduniamo tutti qui in in soggiorno e festeggiamo quindi aggiungiamo edoardo esmeralda e georgia e tommaso ok così almeno facciamo una cosa possiamo anche fare direttamente perché musica classica scusate chi mi ha cambiato la stazione allora cambia stazione a ma forse perché sono tesi e quindi mi dice distenditi ecco qua ascolta musica pop per adolescente insieme ok eccoci qui e già mi ha spuntato questo obiettivo quindi adesso dobbiamo complimentarci con il sim festeggiato per ben quattro volte veramente ok allora cominciamo subito a fare questo quindi con edoardo intanto ci complimentiamo con la nostra piccolina quindi ci congratuliamo e con esmeralda invece magari raccontiamo le barzellette a giorgia quindi raccontiamo una barzelletta toktok e è una sui politici dai intanto stanno tutti ascoltando la musica molto bene mi domando dove sia tommaso in tutto questo eccolo qui è arrivato adesso perfetto ok adesso è proprio una festa molto bene e la cosa che volevo fare adesso aspettiamo che il nostro papà si complimenti con noi che intanto esmeralda sta raccontando la barzelletta molto bene dicevo poi la cosa che volevo fare ok intanto abbiamo spuntato anche racconta le barzellette perfetto quindi dicevo la cosa che volevo fare appena edoardo avrà finito di complimentarsi con noi ok va bene ascolta la lezione no ma dovevi ricevere i complimenti per il compleanno dai una lezione preziosa no perché allora aspettate congratulati ola forse dicevo poi dopo che il nostro papà si sarà complimentato con noi volevo fare una cosa con il piccolo tommy prima che diventino tutti e due adolescenti mi mangia la torta è giorgia mi raccomando allora volevo infatti fare volevo fare un'interazione che ancora però non mi sblocca quindi intanto facciamo un pochino di interazioni amichevoli ok allora le ho fatte chiacchierare un pochino e nel frattempo rossella mi ha raggiunto anche il livello 10 di abilità sociale quindi ora rossella può prendersi gioco dell'uno di altri sim può anche sviluppare le abilità di malizia e di carisma e se non sbaglio avendo massimizzato l'abilità sociale dovremmo partire con un vantaggio da una volta adolescenti proprio con con l'abilità di carisma se non ricordo male e anche per questo che insomma per lei nell'infanzia ho scelto un pochino questa questa aspirazione e questa abilità quindi quello che volevo fare adesso me lo consente è di stringere una grande amicizia eterna con tommy visto che comunque sono migliori amici e così almeno completiamo questa pietra miliare della dell'aspirazione infantile non la finiremo tutta questa è la seconda pietra miliare ne mancherebbe una terza ma non importa insomma dobbiamo cominciare a concentrarci sulla challenge adesso però almeno questa la volevo finire anche perché era un qualcosa che volevo fare con tommaso visto che loro insomma sono cresciuti insieme sono veramente a tutti gli effetti migliori amici fin dall'infanzia insomma ed ecco qua diventate migliori amici per sempre assolutamente sì qui intanto gli adulti si stanno scatenando nel ballo ed eccoli qua che stanno per diventare migliori amici ed eccoli qua e abbiamo completato la pietra miliare quindi ed ecco qua quindi rossella rossi e tommaso gentile stanno diventando migliori amici per sempre abbiamo completato anche la terza pietra miliare la seconda è in pietra miliare ora vedete c'era da fare quest'altra ma insomma noi dobbiamo passare l'età quindi non importa mi dispiace che non si sia visto perfettamente il momento in cui sono inutati i migliori amici ma come al solito il mio computer lagga la situazione sta peggiorando di giorno in giorno ragazzi ma come vi ho già detto e lo ribadisco sto comprando il computer nuovo quindi presto tutto questo non succederà più anche nei commenti spesso me lo scrivete e lo so ne sono consapevole sto sto per comprare un computer molto più performante perché questo che uso adesso non è proprio il top e quindi vi chiedo scusa se appunto ancora ci sono un po di questi problemini ma presto non ci saranno più è una promessa va bene quindi sono diventati i migliori amici allora adesso direi che poi ci concentriamo su tutti questi altri obiettivi però insomma mentre la festa è ancora in corso facciamo assolutamente l'obiettivo principale quindi apriamo prendiamo dal frigo la torta che il nostro buon edo aveva già preparato ovviamente è alle fragole perché è la cosa che più si avvicina al colore rosso per la nostra cara rossella quindi mettiamo le candeline quindi aggiungiamo le candeline e siamo pronti per festeggiare voi basta ballare e venite tutti qui a festeggiare la nostra piccola che sta per diventare adolescente cosa ci fa questo libro qua in terra non si sa va bene mettiamolo nell'inventare un attimino e vediamo un pochino di farla passare di età sperando che il lag di nuovo non ci colpisca nei momenti meno opportuni ok abbiamo aggiunto le candeline e siamo pronti esprimi un desiderio vai ed ecco qui che la nostra rossella sta per crescere sono curiosissima di vedere come diventerà ok abbiamo anche completato l'obiettivo e vediamo se diventerà una bella signorina ma sono sicura di sì oh bene rossella è passata di età l'adolescenza ti aspettano le pene d'amore i pantaloncini da palestra sudati e gli sconvolgimenti ormonali ti conviene prepararti bene il viaggio inizia qui allora sappiamo benissimo abbiamo visto le regole prima che cosa dobbiamo fare quindi andiamo su l'aspirazione amore e in particolare appunto l'aspirazione della nostra rossella sarà quella di romantica seriale e ora la vedremo è bella tosta questa aspirazione ragazzi e possiamo aggiungere il secondo tratto e come secondo tratto io intanto le aggiungerei il tratto di romantica quindi questi sim tendono a essere flirtanti e possono diventare tristi se non hanno interazioni sociali romantiche da un po di tempo quindi questa sarà un po coerente anche con quella che è la sua aspirazione e anche in questo caso vedete i tratti caratteriali di questa generazione sono caratterizzati proprio dal colore rosso come vedremo anche il tratto snob è caratterizzato proprio dal colore rosso ebbene quindi la nostra rossi è diventata oddio che cos'hai in testa oddio ok ha un viso molto carino chiaramente dovremo ora fare qualcosa per questi capelli ma prima facciamo passare di età anche il nostro tommy e poi facciamo un restyling allora aggiungiamo le candeline ok e facciamo passare di età tommaso allora dovrebbe farmelo fare sì ok fai passare di età il sim ok tommaso dai tommy è il tuo momento non si può vedere con questi capelli rossello va bene ed ecco qui anche lui sta festeggiando eccolo qua vai tommy soffia 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 eccolo qui e vediamo il nostro tommy com'è diventato wow come siamo eleganti col cilindro ok aspettiamo che si sia scattato il selfie vediamo com'è diventato ok anche lui mi sembra un bel ragazzotto molto bene anche a lui va bene adesso lo lasciamo così perché non ce l'ho in casa poi cambierò io il look ovviamente anche a lui anche se occhi e croce mi sa che i capelli lunghi mi sa che è la stessa pettinatura che aveva eduardo da giovine va bene ok rossi direi che adesso possiamo andare in casa un attimino a cambiarti il look soprattutto i vestiti non sono neanche brutti però questi capelli non si possono vedere tesoro mio ok andiamo nel caso ok ragazzi ci siamo ci ho messo molto perché ero molto indecisa con la nostra rossi su come non so come acconciarla comunque intanto questo è il suo viso e cominciamo dal trucco quindi lei diciamo che indispensabile nel suo make up in questa fase adolescenziale sarà questo gloss tendente sul rosso quando diventerà adulta diventerà un rosso anche bello più più scuro più maturo per ora insieme adolescente e ha un trucco diciamo relativamente più leggero perché comunque a lei a lei piace truccarsi in maniera anche abbastanza accentuata quindi come acconciatura di base porta questa questa bella treccia e diciamo che come stile era un po indecisa perché io rossi la la vedo come se in questa fase adolescenziale poi quando sarà adulta avrà un'evoluzione perché cambierà però in questa fase adolescenziale è come se in lei convivessero due anime che sono un pochino poi i suoi tratti caratteriali ovvero da una parte ha un tratto comunque romantico e dall'altro però non dimentichiamoci che è una testa calda e quindi è come se lei convivessero uno spirito più più dolce più romantico più non elegante ma comunque più più dolce diciamo così con invece un'anima un po più rock e quindi il suo look è un po' è un po' un misto di queste di queste due cose diciamo questo un po' per spiegarvi in cosa alla fine sono stata guidata nel scegliere il suo il suo look sono stata un po' devo dire che ci ho messo un bel po' ecco perché volevo capire bene un pochino quale fosse la cosa che le si addicesse di più quindi questi sono i suoi abiti quotidiani per il momento poi magari più avanti aggiungerò anche delle altre versioni comunque per il momento questi sono i suoi abiti quotidiani è molto bella, ha un viso molto carino e ha anche insomma un fisico perfetto direi allora poi invece questi sono gli abiti formali dove sono gli unici abiti dove l'ho un pochino più infiocchettata diciamo anche perché la cosa che volevo un pochino tenere su di lei è anche la caratteristica del suo colore allora in italiano va tradotto col termine rosso il colore però nella versione originale in inglese questa generazione sarebbe rose ovvero il fiore della rosa solo che in italiano bisogna tradurlo come rosso perché altrimenti si confonde la rosa con anche il colore rosa quindi chiamare generazione rosa diventa confondente però diciamo che quindi il suo colore che è il rosso però è il rosso caratteristico del fiore quindi volevo un pochino anche mantenere questo richiamo al fiore della rosa che comunque sarà anche ricorrente nella sua vita indubbiamente se Rossella ha un fiore preferito questo è sicuramente la rosa di colore rosso quindi poi questi sono gli abiti sportivi quindi poi abbiamo gli abiti da notte ecco qui il pigiama e quindi in questo caso diciamo che quando lei si scioglie i capelli questo è più o meno il taglio che ripercorre un pochino la sua treccia che invece diventa appunto dall'altro lato e tirata indietro con gli abiti sportivi come avevo visto questi sono gli abiti da festa quindi qui abbiamo un look più aggressivo e le ho messo questa collana a forma di ragno che fa parte dello staff pack della festività di Halloween tra l'altro Halloween che è appena passato però non lo so secondo me con questo bel rosso intenso esprime un po' anche una parte dell'animo comunque particolare di Rossella che comunque nel crescere avrà un bel caratterino e quindi questo è il suo look un po' appunto diciamo aggressivo anche se vogliamo e che riguarda insomma appunto il look da festa perché poi insomma vedremo nell'adolescenza quello che farà e non farà poi abbiamo il costume da bagno assolutamente dovevo mettere questo è il suo questi sono invece gli abiti per il clima caldo e anche qui ricorre insomma a questo stile e da questi abiti insomma si capisce come Rossella sia una simmina comunque sicura di sé quantomeno è a suo agio con il suo corpo e da questo punto di vista non ha molti complessi comunque non si fa molti problemi a mostrarsi in tutto il suo splendore e questi sono gli abiti per il clima freddo e qui appunto ho messo questo motivo florale nei pantaloni appunto per ricordare un pochino appunto il fiore della rosa insomma così per darle un po' questo motivo bene quindi questi sono gli abiti della nostra Rossi ok allora direi che ci possiamo adesso prendere una bella porzione tutta in tutti insieme prendi un pezzo insieme dai mangiamo una torta mi sa che la nostra Rossi poi avrà bisogno di fare una capatina in bagno oh bene ed eccoci qua a gustarsi un bel pezzo di torta tutti insieme poi vediamo che altri obiettivi dobbiamo fare dobbiamo sempre finire di complimentarci col sim festeggiato quindi vediamo se stavolta me la fa fare l'interazione e poi dobbiamo preparare una porzione multipla e far sì che i sim giochino a dei giochi nello stesso momento ah ok quindi allora intanto complimentiamoci vediamo insomma di completare un altro po' di obiettivi quindi congratulati e lo facciamo anche con Esmeralda non penso che lo possiamo fare anche con Tommaso perché risulta come ospite e non come ah addirittura si devono presentare con lui va bene dicevo credo che risulti come ospite quindi non credo che mi faccia fare le congratulazioni anche con lui va bene ah però non so perché non me lo scala questo obiettivo va bene si vedete perché si è complimentato però non mi conta questa interazione non so perché va bene va bene allora magari proviamo a fare una partita a scacchi vai festeggiati magari voi due mi fate una partita anzi no Rossella facciamola andare in bagno facciamo una partita magari noi due allora a Edoardo facciamo giocare con con Tommaso dai facciamo fare una partita e con Esmeralda intanto prepariamo questa porzione multipla così vediamo di fare un po' di obiettivi secondo me questo obiettivo qui si è però buggato probabilmente sì quindi cosa possiamo preparare vediamo un po' un bel minestrone dai formato festa ok allora mi ha contato due che stanno giocando a dei giochi non so se poi mi conta anche l'altalena come gioco proviamo a vedere no non credo che ce lo conti come gioco probabilmente ci vorrebbe un bigliardino o qualcosa del genere allora ho messo momentaneamente qui questo tavolo da gioco facciamo una cosa allora veniamo qui e giochiamo tutti quanti a carte insieme quindi giochiamo con Edo, Tommi e Giorgia tanto Esmeralda sta affinando di cucinare così vediamo se completiamo questo obiettivo ecco qua ah ok me l'ha già contato perché sono in trecce Tommi che sta dando le carte perfetto e ora dovrebbe unirsi anche Rossi quindi mi conterà anche gioca una partita con il sim festeggiato perfetto quindi vediamo se Esmeralda finisce di cucinare se riusciamo a completare insomma a prendere almeno un argento per questo evento intanto c'è Esmeralda che sta andando avanti col minestrone manca la mezz'oretta vediamo vediamo ok questo l'abbiamo fatto per capriccio fai che un sim completi 10 capricci in un singolo evento sociale davvero ok non me ne ero neanche accorta va bene ah e ora ci direbbe di mangiare la torta adesso ce lo dice che l'abbiamo già mangiata mannaggia però comunque abbiamo raggiunto anche l'argento va bene ok qui intanto giocano e la festa sta per terminare dai comunque insomma abbiamo raggiunto quantomeno l'argento molto bene che è stata una festicciola insomma con il nostro con il nostro amico e con la sua la sua famiglia insomma ed ecco qua premio buon compleanno goditi dei palloncini celebrativi se non l'inventare della tua unità familiare e va bene allora quindi la festa diciamo che si è conclusa effettivamente anche un po' tardino e la cosa che volevo vedere un attimo appunto è come siamo con il livello di carisma se effettivamente abbiamo avuto un bonus no in realtà no anche se abbiamo raggiunto il livello 10 non abbiamo avuto il bonus per il carisma va bene quindi poi cominceremo a svilupparlo allora io adesso andrei su e come da tradizione ad ogni compleanno direi che è il momento anche di sistemare la cameretta della nostra Rossi e quindi renderne una cameretta da adolescente allora qui come vedete ho messo questo castello è un progetto scolastico che ha fatto lei in questi giorni mentre giocavo off camera e quindi l'ho messo qui su un comò e poi vi faccio vedere ho messo anche qui si è messa sulla scrivania una foto scattata con Tommy al matrimonio di Esmeralda e poi vi faccio vedere anche le altre foto che ho sistemato queste sono le foto fatte agli sposi durante il matrimonio qui ho messo la foto scattata invece su SIGSAM con tanto di alieno che si intravede e io vi ribadisco il concetto che vi dissi quando è stata scattata questa foto ovvero ricordatevela perché ritornerà nel corso della storia e avrà un ruolo abbastanza importante quindi ricordatevi di questa foto e qui ho messo il loro il loro selfie fatto quando Edoardo sempre su SIGSAM ha chiesto a Esmeralda di sposarlo e nel suo studio ho messo questa bellissima foto è troppo simpatica con la luna di SIGSAM una delle lune di SIGSAM dietro l'ho messa insomma qui nello studio quindi dicevo io a questo punto sistemerei la cameretta di Rossella e la renderei appunto adeguata per una adolescente ed eccoci qua ecco la camera della nostra Rossi adolescente allora adesso ve la faccio vedere in tutto il suo splendore allora chiaramente il tema è il rosso come sempre come vedete ho fatto un po' di cambiamenti infatti qui dove prima c'era il letto ho chiuso ho ricavato un angoletto dove ho messo la cabina armadio e un bello specchio molto grande non dimentichiamoci che Rossella dovrà sviluppare l'abilità di carisma e quindi ogni specchio sarà fondamentale inizialmente per sviluppare questa abilità quindi ho spostato di qua la zona letto questo letto è bellissimo col patchwork e qui ho messo due diciamo due decorazioni che esprimono le una l'anima adolescente della nostra Rossella con i poster della boy band insomma del momento è un altro un quadro che indica insomma l'animo politico che già sta nascendo in Rossella perché insomma questo è un quadro che ha un po' il sapore della delle politiche estere di tutto un certo tipo di sensibilità anche sociale se così vogliamo dire ok e quindi queste sono le due le due anime l'anima adolescente e l'anima invece di Rossella che comunque si appassionerà sempre di più alle cause politiche quindi qui abbiamo la scrivania diciamo che mamma e papà per il compleanno hanno regalato un computer certo non l'ultimo grido così perché insomma non la vizziamo troppo la nostra Rossi però insomma le hanno regalato un computer tutto suo quindi qui c'è sempre la foto di loro due insomma ricordo di infanzia ho appoggiato qui insomma la costruzione del castello questo bel tappeto colorato che ci sta benissimo e qui allora poi ho cambiato le tende qui ho aggiunto anche queste tendine decorative insomma alla porta che dà sul terrazzo poi magari vedremo anche di personalizzare un pochino il terrazzo della nostra Rossi e qui invece c'è un angolo con la postazione di trucco che è l'anima insomma più comunque venitosa della nostra Rossi e nella quale comunque anche qui con questo bello specchio si potrà anche esercitare nella sua abilità di carisma quindi questa era la la camera anche di Rossella sistemata adesso volevo andare a vedere insieme a voi invece l'aspirazione che sarà un altro obiettivo della challenge perché è estremamente interessante e diciamo che caratterizzerà molto la vita di Rossella sia ad adolescente ma soprattutto nella sua vita adulta come vedremo allora abbiamo scelto l'aspirazione di romantica seriale quindi abbiamo quattro pietre miliari da completare con diversi obiettivi quindi la prima pietra miliare è quella di amante amatoriale trovati un fidanzato o una fidanzata e dobbiamo andare a due appuntamenti quindi quindi questa è la prima e fin qui è anche abbastanza semplice il bello arriverà dopo perché nella seconda pietra miliare abbiamo appuntamenti a gogo dobbiamo conseguire il livello quattro di carisma e dobbiamo dare tre primi baci poi la terza pietra miliare sarà giocoliera romantica dovremo conseguire il livello sei di carisma che quindi è collegato sempre agli altri bisogni della challenge e dovremo stringere forti relazioni romantiche con tre sim allo stesso tempo e dovremo baciare dieci sim infine l'ultima pietra miliare è difficilissima perché allora bisogna guadagnare loro in tre appuntamenti questo va bene anche fattibile e dobbiamo trovarci otto fidanzati o fidanzate quindi insomma la nostra rossella nel corso della sua vita come potete ben capire avrà una vita romantica abbastanza vivace in tutto questo come abbiamo visto negli obiettivi della challenge dovrà anche abbandonare una persona all'altare perché lei non potrà sposarsi non potrà mai coronare un amore col matrimonio fino a quando non arriverà all'età anziana ma nel corso della vita dovrà lasciare un sim all'altare e dovrà avere un figlio uno solo quindi insomma avrà una vita molto movimentata la nostra la nostra rossella comunque sono le due e mezza di notte direi che la festa è decisamente terminata e io direi che insomma per questo episodio possiamo anche fermarci qui oggi abbiamo dedicato insomma questa prima puntata a introdurre insomma tutti quelli che saranno gli obiettivi della nostra rossella della sua futura vita che sto guardando adesso ha veramente una carnagione molto chiara lattea credo che abbia preso il carnato da edoardo perché edoardo è molto più chiaro anche di esmeralda effettivamente anche se tutti i due sono abbastanza palliducce effettivamente e quindi insomma abbiamo visto un pochino quello che aspetterà questa questa piccoletta insomma che guardate che che comunque promette promette di fare grandi cose e di farci di farci divertire molto indubbiamente come la madre ha anche avrà anche lei insomma una personalità molto molto forte interessante e molto molto sfaccettata diciamo che appunto dentro rossella come già abbiamo un pochino visto vivono diverse diverse anime l'anima romantica l'anima più come dire aggressiva quella più carismatica e sicura di sé e quella in questo momento anche di adolescente e anche quella poi che nell'età più adulta sarà invece sensibile verso le tematiche politiche e del sociale poi vedremo insomma più avanti su cosa si orienterà e si specializzerà comunque avremo un'adolescenza molto interessante con questa ragazza già ve lo anticipo insomma e già dal prossimo episodio entreremo subito nel vivo nel vivo della partita ve lo posso assicurare ma non vi dico di più poi stavo guardando stavo cercando di capire ora che ha i capelli raccolti a chi assomiglia di più gli occhioni gli occhi verdi sono assolutamente della madre ora qui è anche molto truccata però è proprio un misto sinceramente non saprei dire tra Esmeralda e Edoardo da chi ha preso di più effettivamente è un po' un mix un po' un fritto misto probabilmente questa parte qui la parte bassa del viso è più del del padre mentre invece gli occhi il taglio della fronte forse sono più della mamma non lo so è un po' un mistone queste labbra belle carnose credo che siano di Edoardo perché anche Esmeralda si ha delle belle labbra ma non mi sembra che le abbia così così carnose cioè anche lei sì però Edo probabilmente quello che ha più ha più le labbra pronunciate comunque indubbiamente è una bella ragazza sono molto contenta di come è cresciuta e vedremo un pochino quello che combinerà nei prossimi episodi quindi per questo episodio io mi fermo qui spero che questa prima puntata un po' introduttiva vi sia piaciuta che la challenge vi abbia comunque intrigato anche in questa seconda generazione e fatemi sapere cosa ne pensate con un mi piace e nei commenti e noi ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti ragazzi